Domani martedì grasso il carnevale di Fano si congeda e affida alle fiamme il compito di depurarci dai bagordi e dai festeggiamenti per entrare nel periodo dell'acquarese. A Fano tocca al pupo finire arrostito in piazza per celebrare il rituale che rimane immutato nel tempo. Unica differenza col passato è che non sarà più un personaggio di un carro allegorico ad ardere per ovvi motivi di inquinamento ambientale. Avendo spesso la vetroresina e il poliuterano espanso preso il sopravvento sulla cola di pesce e la carta pesta ma un pupo appositamente realizzato per la bisogna dai maghi del cartone l'associazione K Artone appunto che hanno animato piazza 20 settembre già nel giovedì grasso. È tutto pronto avremo anche il grande spettacolo di Diego Parasole direttamente da Delic Circus poi ci sarà la riconsegna della fascia ma prima della riconsegna della fascia al sindaco Massimo Seri insieme la Borghetti, Armando Dolci, noi tutti i consiglieri canteremo tutti insieme la canzone sulla differenziata e poi la sigla del carnevale che è avanti a Indre e poi riconsegneremo le chiavi. Dopodiché alle 19 il rogo del pupo. Presente in piazza prima del comico di Zelig un intermezzo poetico in dialetto di Andrea Lodovichetti alle 16.30 che precederà appunto l'esibizione dell'eco comico. Come anche i ragazzi della scuola primaria di Fenile e della Nuti che daranno via alla performance Canora per l'iniziativa sul risparmio energetico della trasmissione di Radio 2 Caterpillar mi illumino di meno. Un'iniziativa che da ben sette anni coinvolge elementari e medie di Fano.